È stato rinvenuto cadavere la notte scorsa intorno alle 2 dai sanitari del 118 dopo essere stato investito da un pirata della strada in stato di ebrezza che poi ha proseguito la sua corsa lungo la circonvallazione pescarese, prima della Galleria San Giovanni nella zona di Pescaracolli. La vittima è un cittadino romeno di 47 anni, Ion Vlad. L'uomo in sella alla sua bicicletta è stato preso in pieno dall'auto che procedeva in direzione sud-nord, probabilmente a velocità spedita. È stato un'automobilista di passaggio a vedere il corpo a terra e allertare gli agenti della polizia stradale, coordinati dal vicequestore aggiunto Silvia Conti, che stanno ora ricostruendo l'accaduto. La salma del 47enne è stata invece trasferita all'obitorio dell'ospedale di Pescara, a disposizione dell'autorità giudiziaria. Nelle prossime ore dovrebbe essere conferito l'incarico per l'autopsia. Subito dopo, grazie anche ad alcune testimonianze, è stato rintracciato l'investitore, che dopo l'impatto mortale non si era affermato, fuggendo via. Si tratta di un italiano di 41 anni nato a Napoli e residente a Pescara, per cui si è proceduto all'arresto con l'accusa di omicidio stradale, in base alla nuova normativa. L'uomo, che avrebbe anche cercato di sbarazzarsi dell'auto e sottoposto per legge agli accertamenti sanitari, è risultato positivo all'alcol test. Il PM che coordina le indagini è Gennaro Varone.